Una prima maglia con i colori classici bianco-rossi, la seconda total black con inserti bianchi e quella del portiere in versione fluo. Saranno queste le divise del fordì per tutta la prossima stagione, nell'anno del centenario. Una ricorrenza celebrata dalla scritta 100 anni di noi posizionata sul col. Sulle casacche spicca poi il logo dell'avventurelle. Nessuna sorpresa, l'azienda fa capo a Stefano Fabri. Che fino a pochi mesi fa era presidente dei bianco-rossi ed è rimasto partner privilegiato del Forlì FC. È inutile nascondersi perché il Forlì quest'anno è una società che mira in alto. C'è il Cesena che sicuramente ha delle potenzialità di partenza superiore alla nostra, ma noi ce la giocheremo. Infatti è anche uno dei motivi in cui perché ho insistito, ho voluto fortemente la main partner, il fatto che dopo aver realizzato lo stadio Cesena bisogna andare a spugnarlo. L'inizio di campionato è stato in effetti molto promettente. Il 3-0 rifilato alla prima stagionale a Lisernia rappresenta il punto di partenza ideale per le mire dei bianco-rossi. La squadra è stata composta nel modo migliore. I risultati ci sono per adesso. Cercheremo di mantenerli e vedremo un attimo se il campo ci darà ragione. Il 3-0 rifilato alla prima stagione.